Ciao, allora, questo video è dedicato a tutte quelle persone che vogliono perseguire una strategia di ricchezza, quindi per arrivare a diventare ricchi nel corso del tempo, per arrivare a dare veramente un'impronta potente alla propria situazione finanziaria. In questo video vediamo come si può diventare ricchi in maniera lenta, in maniera strutturata, ma in maniera certa e assicurata. Lo vediamo in questo video. Ciao, io sono Massimiliano Cerra e sono colui che ha portato in Italia quello che è il concetto di pensione, pensione raggiunta in maniera autofinanziata, solo con risorse proprie, ed aver portato quelli che sono i programmi specializzati che aiutano a raggiungere questo obiettivo, quindi la pensione anticipata e con molti più soldi raggiunta proprio con risorse proprie per dipendenti, liberi professionisti e imprenditori. La prima cosa che devo dirti prima di iniziare con questa bella escalation di questi otto punti fondamentali che ti serviranno per raggiungere in maniera certa questo obiettivo, devo dire la ricchezza raggiunta in maniera veloce nel giro di brevissimo tempo non esiste. Ok? Lo so che tante persone, anche io nel corso del tempo, nel corso degli anni, sono cascato in un paio di situazioni dove c'erano delle percentuali altissime, dove si diceva che investendo, comprando quella determinata cosa sarebbe cambiato tutto nel giro di brevissimo tempo, la ricchezza breve, tantissime persone cercano la ricchezza breve, tantissime persone vedendo lentamente, ma certamente dicono questo video non mi interessa, fammi andare a vedere quello veloce, immediato e certo. Ok? Mentre queste situazioni ti porteranno sicuramente al risultato, le altre situazioni non ti portano a nessun risultato, anzi ti portano nel 98% delle volte a perdere addirittura dei soldi, a perdere del capitale, a perdere del tempo. Ho visto, oltre alla mia esperienza, ho visto anche, non solo ci cascano i piccoli, ma ci cascano anche le persone che sono più esperte di investimenti, ok? In queste situazioni, tipo il trading, il network, ma il trading fatto in una determinata maniera, quello dei giornalieri che guadagnano milioni, ok? Queste cose qua, o gli youtuber che vanno a giro con le Lamborghini, con le Ferrari e quant'altro, i network marketing e quant'altro, ecco, vedrai sempre queste situazioni, gli amici degli amici, verrai sempre a sentire che l'amico di quello che tu hai visto ha fatto questo grande risultato, però è sempre, non è il tuo amico, è un amico dell'amico e questo amico dell'amico non si sa mai dov'è, non si sa mai che cosa fa, non si sa mai com'è messo e non si saprà mai niente se veramente nessuno avrà visto, non ha visto mai niente, ma vede solamente alcune immagini, alcune cose create ad hoc, ok? Per cui, prima cosa, primo avvertimento di questo video, prima di arrivare al succo definitivo per iniziare a muoversi, a raggiungere questo risultato, è proprio questo, la ricchezza veloce, sicura, immediata, il miracolo della lotteria non esiste, esiste la possibilità di, per quelle persone che oggi prendono, che ne so, il bitcoin quando valeva un dollaro, ok? E hanno detto, guarda, lo butto lì, non me ne frega niente, lo lascio lì, proprio quelle questioni di fortuna, e poi se l'è visto salire, oppure quei soggetti che vincono la lotteria, che vincono il supernalotto, allora, però, che possibilità ci sono di queste situazioni? Sono possibilità di una su un milione, anche perché poi sono, anzi, di più, una su sei milioni, ok? Per cui, con queste strutture, è una possibilità uno a uno, ok? Se le metti in atto, raggiungi in maniera certa, lenta, strutturata. In quei contesti lì, uno su un milione vuol dire praticamente, uno su sei milioni vuol dire praticamente nessuno. So anche che in questo preciso istante starai pensando, eh, ma io ce la fare a me quell'opportunità, quelle opportunità che ho visto mi piacciono, io sarò uno perché mi hanno detto che se ti impegni ce la fare, io sarò uno che ci metterò tutto, sarò l'unico che ci arriverà, sono l'unico, mi sento motivato, io sono quello che ce la farà, sono forte, ce la farò, mi sono orientato mentalmente, eccetera, eccetera. Lo so che succede questo, perché c'è tutto un ambito formativo, un ambito di deviazione mentale dietro a queste situazioni, lo so che gran parte delle persone pensano questo, ma ricordati sempre, la strada che poi alla fine, se vuoi arrivare al risultato, sarà sempre questa e quella sarà una strada che non ti porterà da nessuna parte. Noi riceviamo veramente decine di chiamate ogni settimana, persone che semmai ci hanno provato e che vengono a cercare una struttura più solida per creare un autofinanziamento dopo aver, dopo essere incappati in queste situazioni, dopo aver perso dei soldi e per questo ho deciso di fare questo video, per fare in modo che le persone possano veramente avere a tutti gli effetti una struttura quella vincente, quella che ti porta al risultato e non quelle sognanti. E devo dirti un'ultima cosa su quelli che sono poi questi sistemi di ricchezza facile e veloce. Esistono persone molto più intelligenti di te, molto più intelligenti di me, molto più intelligenti di noi, come Jeff Bezos, come Steve Jobs, come Bill Gates, ecco tutti i soggetti che sicuramente conoscerai, che non hanno utilizzato questi mezzi veloci. Persone così intelligenti, se questi mezzi veloci funzionassero, li avrebbero sicuramente utilizzati loro, ma non li utilizzano. Vai a vedere le loro storie, le loro biografie, la loro vita e non hanno mai utilizzato situazioni di ricchezza veloce, anche perché non sarebbero a questo punto, avrebbero perso tutto, non sarebbero i proprietari di Amazon, di Microsoft e di quant'altro. Bene, iniziamo. So già che un video del genere, quindi lento, strutturato e certo, può avere meno appeal degli altri video, ma tra qualche anno ci sarà una grande differenza, perché quelli che hanno utilizzato questa struttura avranno certamente dei risultati, gli altri che hanno cercato il facile, veloce, sicuro e immediato, non avranno alcun tipo di risultato e nel corso del tempo, veramente questa bilancia peserà ampiamente da questa parte, in maniera sicura. Allora, molto importante, iniziamo con gli otto punti. Allora, il primo punto, per arrivare ad avere un concetto di ricchezza, certo, determinato, lento, ma certo, è importante arrivare dalla base di partenza. Molto spesso le persone fanno l'errore di andare a cercare fuori, di andare a vedere grandi opportunità, di andare a cercare intorno se c'è qualcosa di buono. No, il grande risultato si ha dal proprio punto di partenza. Come parto io? Come sono messo? Situazione personale, patrimoniale ed essere pronto a rinegoziare tutto, quindi lavoro, entrate, uscite, situazioni patrimoniali, ok? Quindi andare a partire sempre da se stessi, ok? Quindi dalla propria situazione patrimoniale ed essere pronto a rimetterla in piedi, a rinegoziarla nella maniera giusta. Punto numero due, fai un piano a tempo. Le persone sono, in tutto quello che è la struttura delle cose che vogliono raggiungere nella vita, a livello professionale, a livello finanziario, a livello di ricchezza, quello che vuoi, sono barche in avaria. Barche in avaria significa che non hanno un piano. Chi ha un piano raggiunge sicuramente quel risultato, che tu sia uno sportivo. Lo sportivo non parte oggi e dice inizia a correre, vediamo cosa viene fuori. Ma cosa vuoi fare? Voglio vincere le Olimpiadi. Vincere le Olimpiadi serve un piano strutturato di allenamento, un piano strutturato di... Cioè, ok, ci siamo capiti. Benissimo, è la stessa cosa come se oggi sentissi Jeff Bezos e l'obiettivo qual è? Speriamo di vendere qualcosa a fine mese e speriamo di vendere anche il mese dopo, altrimenti lo stipendio non arriva. Sai benissimo che non c'è dietro cui, c'è una strutturazione di obiettivi da raggiungere, ovviamente gran parte delle persone, gran parte delle persone, non hanno questo, la gran parte delle persone lavorano così, tu gli chiedi, ma lavori per cosa? Hai iniziato a pagare le spese, le bollette, ma cosa vuoi raggiungere? Vuoi raggiungere la pensione? No, la pensione la raggiungerò mai. Cioè, non c'è un obiettivo, non c'è un obiettivo a te. Lavoro per raggiungere questo risultato, mi impegno per raggiungere questo risultato, investo dei soldi per raggiungere questo risultato. Noi investiamo così per fare qualche guadagnetto in più. Vai a differenziarti immediatamente da questa massa di persone, perché chi ha un obiettivo e fa una determinata cosa per raggiungere un obiettivo, lo raggiunge. Tutte le altre persone vivono nella superficialità, sono barche in avaria che non hanno un obiettivo specifico e non avendo un obiettivo specifico, di conseguenza non lo raggiungono. Per cui, da questo momento, piano a tempo, cosa vuoi raggiungere? La ricchezza vuoi raggiungere tot, mensile, risultato finanziario? Bene, una struttura, un piano che ti porti in un determinato tempo a raggiungere questo e le azioni che poi devi mettere in atto per raggiungere questo, che poi saranno quelle conseguenti. Questo è il piano, ok? Molto importante. Punto numero tre. Trasforma i tuoi beni, ok? Qui abbiamo visto la base di partenza, dove tu devi mettere in piedi, devi capire tutto quello che hai come base di partenza. Questo è il momento di trasformare i tuoi beni. Come vedi, si riparte sempre dalla situazione senza andare a cercare fuori. Si riparte dai propri beni. Poi, una volta che abbiamo ristrutturato questa parte, entriamo nella seconda parte. Ristrutturiamo i beni. Sicuramente gran parte delle persone, gran parte degli italiani, hanno beni infruttiferi. Quindi hanno tantissimi beni, hanno proprietà importanti, case, macchine, case al mare e quant'altro. Quindi è importante cercare di trasformare dei beni che siano fruttiferi. Quindi fai in modo di, per quanto ce la fai, per quanto puoi andare a trasformare i tuoi beni, fai in modo che siano beni fruttiferi, o meglio, beni che ti portano, grandi proprietà, ma che ti portano ogni mese un risultato. È un po' come investi, tu non è che investi per lasciare i soldi fermi, tu investi per avere un risultato, per avere degli interessi, per avere un aumento del capitale. Benissimo, allora i beni devono diventare fruttiferi e fai in modo di riqualificare quelli vecchi. E d'ora in poi, nel resto dei tuoi giorni, sempre insegnano anche i figli, fai in modo di acquistare solo beni che generano un reddito. Altrimenti tutti i beni che non generano un reddito, non li prendere i grandi beni, ok? Solamente, chiaramente sto parlando, non sto parlando di necessità, di farmaci, di alimentazione, eccetera, eccetera, ma i grandi beni, quindi riqualifica e comunque trasforma i tuoi beni anche per il futuro. Punto numero 4, che direi una cosa fondamentale. Qual è il tuo concetto di ricchezza? Io vedo tante persone come ero io al tempo, perché tu, bene o male tutti, nel nostro piccolo, chi più chi meno, ha pensato alla ricchezza, ha pensato a voler diventare ricco. E come l'ha pensato? Ma voglio diventare ricco, come? Tanti soldi, girare il mondo, così generico, ok? Qual è il tuo concetto? Concetto, cosa significa per te ricchezza? Perché ricchezza può avere mille, può essere ricchezza dell'anima, ricchezza interiore, ricchezza, sono delle persone che ho conosciuto, cosa vorresti avere? Ah, a me guarda, basta che mi danno due mila, tipo la pensione, due mila euro al mese, io guarda, sono contento, la mia ricchezza è avere il tempo libero, ok. L'altro che vorrebbe avere, ma il mio concetto di ricchezza è quattro mila euro al mese, vivo alla grande. L'altro che ha il concetto di ricchezza, qual è due milioni sul conto, cinque milioni sul conto, ci sono tutta una serie di concettualità di ricchezza, che poi sono anche da vedere, perché spesso la ricchezza noi la attribuiamo come prima cosa ai soldi, quando se io faccio questa domanda, le persone dicono, io voglio tanti soldi, ok, ma solitamente non è questo il concetto, solitamente i soldi sono un mezzo, non sono i raggiunti, ho raggiunto i due milioni che volevo, per cui sono felice, no, moltamente non sei felice, devi costruire un qualcosa che con questi due milioni ti dia qualche altra cosa che ti dia delle soddisfazioni, solitamente è questo. Allora, il tuo concetto di ricchezza qual è? Cosa c'è dietro? I soldi sono un mezzo per arrivare a che cosa? Allora, cerca di capire qual è il tuo concetto di ricchezza, mettiti, possibilmente scrivilo, perché altrimenti resterà molto generico, resterà generico sul fatto di sapere che cos'è. Il tuo fine, con tutto il rispetto, il tuo fine è avere la libertà, quindi ti bastano determinati soldi per fare in modo che tu sia libero, smetta di lavorare, puoi vivere la vita nel benessere, nell'essenza, oppure sei uno che vuole arrivare a questo risultato perché vuole lo yacht, la Ferrari, tot appartamenti al mare, eccetera, eccetera. Qual è, ok, qual è il risultato, qual è l'obiettivo, qual è l'obiettivo tuo reale, perché sicuramente è diverso per ogni tipologia, anche se tutti parliamo della solita cosa, voglio tanti milioni, ma in realtà poi l'obiettivo che c'è dietro a questo è diverso per ogni persona. Cerca di capire il tuo, perché una volta che hai capito il tuo, molto probabilmente, Andy, certamente, e capito anche a me, vai a riqualificare tutti questi punti, perché determinati tipi di punti saranno un pochino meno importanti. Un piccolo trucco per capire questa parte, questa parte dell'essenza, è quando compri, quando spendi, sei felice? Sicuramente sì, nel 95% dei casi, perché noi siamo in un contesto di vita dove compriamo la felicità, ci pubblicizzano tutto per fare in modo che compriamo quella cosa che ci sembra che ci renda felici. Ma la seconda domanda è per quanto tempo sei felice? Circa due, tre giorni? Poco? E poi dopo devi comprare qualche altra cosa? E quindi questa felicità è una continua rincorsa a comprare? Benissimo. Allora, se questo è il tuo contesto specifico, questa risposta va revisionata bene, perché molto probabilmente potrebbe essere un po' quindi la felicità potrebbe non essere veramente connessa a queste cose che compri o ai tanti soldi, ma potrebbe essere connessa a qualche altra cosa e una volta che si capisce questo si riqualifica tutto il resto. Punto numero 5, fondamentale, aumenta il cash flow. Come si dice in America, vivi al di sotto delle tue possibilità. Questa è una cosa molto importante, è una cosa fondamentale, vivi al di sotto delle tue possibilità. Le persone normali, quindi non devi seguire le persone normali, le persone normali vivono al pari delle proprie possibilità o addirittura sopra le proprie possibilità. Ti dici, come fanno? Beh, semplice, vivono al pari perché sentono che non arrivo a fine mese, vuol dire che guadagnano tot e arrivano lì lì, ok? Alcune volte devono anticipare già lo stipendio il mese dopo. Quindi che vivono al di sopra delle proprie possibilità sono quei soggetti che non possono permettersi di acquistare un determinato bene, cosa fanno? Finanziano, quindi cercano di comprare anche quello che non potrebbero, quindi la macchina più grande anche se hanno uno stipendio basso, ok? Cercano poi di finanziare l'iPhone, quindi sono soggetti che percepiscono pochi soldi, ma non prendono il telefonino o lo smartphone da 80 euro, vogliono quello da 1.500, oppure vogliono acquistare la casa più grande, la macchina più grande per farsi vedere, e gran parte delle persone che vogliono farsi vedere solitamente sono quelli che hanno meno, questa è una struttura proprio psicologica specifica che potrai riscontrare in moltissimi casi, mentre le persone che hanno veramente tanto mirano a non farsi vedere, questa è una struttura fissa. Allora, devi aumentare il cash flow e la differenza tra entrate e uscite, quindi aumentare le entrate se riesci, diminuire le uscite, e questo riesce sicuramente, diminuire le uscite significa che andare a gestire le grandi aziende diminuiscono le uscite come prima cosa, quando le grandi aziende hanno difficoltà, la prima cosa che fanno, agiscono sulle spese, senti licenziamenti, riqualificazioni, chiusure di alcune sedi, ecco, le aziende che cosa fanno? Prima diminuiscono le spese, poi eventualmente dopo si pensa a fatturare di più, ok? Quindi, crea un grande differenziale tra entrate e uscite e dopodiché lo investi, questa differenziale, ogni mese che hai tra entrate e uscite, lo investi in un fondo specifico, ok? noi utilizziamo il nostro metodo capital box formula, ma lo investi in un fondo specifico dedicato al discorso della recapitalizzazione, della ricchezza, ma ci arriviamo adesso. Aumentare le entrate può essere spesso connesso a quelle che sono le tue competenze, per cui, per aumentare le entrate, inizia a non pensare da oggi in poi di cercare qualche lavorettino extra o cercare chissà qualche miracolo extra, ok? Ma aumentare le tue competenze. È oggi la chiave specifica perché le tue competenze più alte ti portano sempre, in ogni caso, ad avere dei risultati molto più alti e poi, avendo poi una struttura per capitalizzare queste competenze, ti portano inevitabilmente ad avere degli aumenti anche del tuo valore personale, oltre che dei soldi personali che hai ogni mese e questo differenziale aumenta. Allora, qua intanto nel blocco del video mi ero dimenticato un punto molto importante che ho aggiunto. Allora, paga prima te stesso, punto 6, paga prima te stesso perché è assolutamente fondamentale, ok? Ogni volta che arrivano i soldi a fine mese prima li vai a dividere, noi abbiamo una gestione finanziaria, ok? Devi avere una gestione delle finanze, ne parleremo in un altro video, quindi devi avere proprio una struttura di gestione delle finanze, ma paga prima sempre te stesso, quindi prendi subito il cash che tu sai che hai fatto perché hai già gestito le finanze prima, un po' come abbiamo detto prima, le finanze devono essere gestite, non è che sono casuali durante il mese, ma la prima cosa che devi fare è pagare prima te stesso, tu sei la persona, sei molto più importante tu di tutto quello che deve venire dopo, quindi paga prima te stesso e dopo inizia con la percentuale che chiaramente hai deciso e hai strutturato e hai pensato e hai visto che è quella giusta, idonea, che ti permette di vivere, ma paga prima sempre te stesso e dopo tutto il resto, non fare il contrario, alzo arrivati i soldi e allora prima pago le bollette poi pago la spesa poi vado qui poi vado di là poi vado di là, alla fine quello che era destinato te stesso non avanzerà e invece se tu paghi prima te stesso non ti preoccupare che per il resto le cose avanzano e troverai il verso è sempre sempre così paghi prima te stesso punto 7 utilizza sempre sempre per arrivare alla ricchezza certa lenta strutturata ma certa gli interessi composti la struttura degli interessi composti ne abbiamo parlato in diversi altri video io ti dico subito ho fatto un video specifico sugli interessi composti quindi gli interessi composti sono quelli che ti portano a moltiplicare esponenzialmente i tuoi beni i tuoi averi nel corso del tempo quindi crea una struttura che abbia al suo interno gli interessi composti come proprio strutturazione finanziaria ok assolutamente gli interessi composti sono quegli interessi che si colmano sempre ok io metto del capitale che genera un interesse lo lascio ancora dentro quindi sarà capitale più interesse che genera ancora più interesse questo capitale va sempre di più e quindi un capitale sempre più ampio un montante sempre più alto che genera sempre più interesse in maniera maggiorativa nel corso del tempo in maniera esponenziale quindi in questa struttura sempre chiunque qualsiasi persona deve utilizzare una struttura di interessi composti per arrivare al risultato il risultato sarà certo assolutamente certo ma utilizza la struttura degli interessi composti chiaramente qua ti sto facendo vedere dei punti poi in ogni punto sarebbe da fare una piccola lezione per ogni punto ma è proprio per farti capire quali sono le strutture che devi utilizzare per arrivare a questo risultato allora punto numero 8 concentrati su un solo obiettivo nella vita il tuo obiettivo è questo il tuo obiettivo hai obiettivi anche di strutturare il lavoro per cui hai obiettivi di avere delle nuove entrate ok non avere troppi obiettivi diffida assolutamente di tutte quelle persone che fanno tanti business tante cose te lo dico io che nel corso del tempo l'ho fatto se non ti concentri su una cosa se ti concentri su tante cose le farai tutte male tutte avranno scarsi risultati quelle persone che si presentano a te che dicono guarda c'ho un business c'ho questa cosa qua questa cosa qua questo questo andrà fortissimo questo andrà fortissimo questo andrà fortissimo diffida assolutamente tutte queste persone che hanno mille idee mille cose focalizzati su una su quella che ritieni sia quella più fondamentale e su quella che ti porterà dei risultati accertati vai a togliere le altre che non significa cancellarle significa mettere da parte una volta che tu avrai strutturato un sistema una soluzione che ti porta ad un risultato che ti porta ad alimentare questo tuo sistema benissimo allora dopo una volta strutturata e pronta operativa potrai concentrati sulla seconda non su altri 10 sulla seconda cosa quindi non farlo tu e diffida di tutte quelle persone che girano con tanti tipi di obiettivi diversi quindi riepilogando in maniera completa base di partenza piano specifico di quello che vuoi raggiungere trasformazione dei tuoi beni da in fruttiferi a fruttiferi e dopo in via successiva sempre fruttiferi capisci il tuo concetto di ricchezza fondamentale aumenta del cash flow e investilo con un sistema e una struttura di interessi composti così come investi tutti quelli che sono i tuoi beni quindi i soldi che hai tutto quello che i tuoi beni vai a mettere in un contesto di a tutti gli effetti una struttura di interessi composti certa determinata dedicata a questo che sia protetta ed è facilissimo farlo ne abbiamo parlato tantissime volte è facilissimo farlo e con questa struttura arrivi sicuramente al risultato paga sempre prima te stesso abbi sempre un solo obiettivo nel corso della vita ultima cosa chiudi le orecchie quando strutturerai tutto questo ci saranno persone che ti diranno ma non va bene abbiamo detto all'inizio nell'introduzione del video ci saranno persone no ma questa è lente fai quella più veloce ok ci saranno persone o che ti cercheranno di deviare in qualcosa di più veloce ci saranno persone che ti diranno che non va bene che devi seguire la struttura classica della vita la pensione lo stato lo stipendio la vecchiaia quant'altro quindi chiudi le orecchie e vai avanti perché qui hai creato hai tutte le regole auree che ti porteranno in maniera certa ad un contesto di ricchezza lenta ma strutturata e certa non ci sono attenuanti qui arrivi sicuro ok in un piano a tempo vai a vedere un piano e vedrai che non sarà così lungo come pensi ok non sarà così lungo come pensi ma sarà la più grande soddisfazione che potrai creare nella tua vita inizia a sognare inizia a sognare quello che potresti fare inizia a vedere la tua vita inizia a visualizzare quella che sarà la tua vita e ricordati sempre il concetto di ricchezza perché diventare ricco certamente ma lentamente significa avere un obiettivo straordinario nella vita e molto probabilmente arriverai a un certo punto che ti fermerai prima nel percorso perché arriverai avrai cambiato perché noi nella vita cambiamo a vent'anni cambiamo ecco si dice sempre che se a 60 anni pensi le stesse cose che pensavi a 20 vuol dire che non avrai combinato niente nella vita sicuramente cambierai quindi partirai con un determinato tipo di obiettivo lo rivedrai ma avrai una struttura creata sul tuo conto quindi completamente personale per cui potrai cambiarla quando vuoi molto bene ti servirà molto meno e molto meno tempo per raggiungere poi questo nuovo obiettivo di vita che potrebbe essere diverso da 40 anni a 45 o a 30 adesso conosci le regole auree per arrivare a questo risultato e ti auguro veramente di raggiungerlo perché sarà bellissimo non solo il raggiungimento il sogno ma sarà bellissimo anche il cammino che metterai in atto non ti fermare parti e metti in atto questa struttura se hai necessità poi di avere un aiuto per creare questo noi possiamo darti un piano gratuito per cercare di arrivare a questo noi lo facciamo per i pensionamenti indipendenti per raggiungere la pensione autofinanziata ma è idoneo anche per quelle persone che vogliono raggiungere concetti di ricchezza vogliono aggiungere determinati tipi di risultati finanziari di un certo tipo vai sotto nella descrizione trovi fatti fare un bel piano gratuito e ti servirà per avere quella luce davanti che ti porterà al risultato finale perché io dico sempre non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto essere e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti